La tragedia risale a 40 anni fa, ma a ripercussione anche oggi, quando ancora si registrano persone con gravi disfunzioni organiche, causate dal più inquietante episodio di avvelenamento da cibo in Spagna. I sopravvissuti hanno temporaneamente occupato il Museo El Prado di Madrid. Siamo stanchi che nessuno presti attenzione a noi, siamo dimenticati, ma siamo malati e vittime. All'interno del museo i manifestanti hanno persino minacciato di suicidarsi nel caso in cui il governo non dovesse riconoscere la sofferenza e la necessità di supporto dei sopravvissuti. Abbiamo cercato più volte di prendere contatto con il governo spagnolo e l'unica cosa che abbiamo ottenuto è stato silenzio e porte chiuse. Abbiamo deciso di protestare oggi, nel quarantesimo anniversario delle vittime. Speriamo che la gente abbia compassione e conoscenza della sofferenza delle vittime dell'olio contaminato. Nel 1981 l'olio di colza contaminato non destinato al consumo umano fu venduto sul mercato. L'avvelenamento era concentrato in certe zone del paese, specialmente nella cintura industriale di Madrid. Intere famiglie entravano in ospedale in condizioni gravissime. Si stima che nel corso degli anni 5.000 persone siano morte.